Weee! Non fare il magazzino muffito! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Weee! Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo velocissimo video! Io sono XIUDER e ragazzi, Rift Beacon attivo ragazzi! Ieri abbiamo visto come fosse sponato ai grandi magazzini il nuovo Rift, quello che in poche parole, Abbiamo visto modificare Pinnacoli nelle ore di oggi, di questa mattina, lunedì 12 agosto, si è attivato esattamente come aveva fatto a Pinnacoli! Il che vuol dire ragazzi che se facesse la stessa identica cosa di Pinnacoli, domani, martedì, si potrà vedere i nuovi magazzini! Tanta tanta roba ragazzi per questa nuova modifica alla mappa! Quindi fateci un salto se volete fare una foto ricordo con il beacon attivato! Io vi ringrazio per aver guardato questo video! Mi raccomando, un bel pollicione in su! Iscrivetevi al canale! Noi siamo in live! Ciao! Noi siamo in live! 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 Grazie.